Il 6 e il 7 febbraio a Firenze si è tenuto il convegno in classe a un bambino che, organizzato dalla casa editrice Giunti Scuola. Via web ha partecipato al dibattito il professor Giorgio Israele con un intervento dal titolo Sono utili le prove invalsi? Devo scusarmi per non essere fisicamente presente per colpa di quel che viene comunemente chiamato un colpo della strega. Spero tuttavia, inviandovi questo intervento registrato, di non rovinare del tutto il confronto sulle invalsi. A proposito del quale dirò subito di non essere a priori contro le prove invalsi, tanto meno contro l'ente invalsi, a condizione che si accetti una discussione aperta a critiche e modifiche circa i contenuti delle prove e che le finalità dell'ente siano chiaramente definite e che esso non sia una struttura chiusa, impermeabile a competenze esterne. Allo Stato non è così. La ragione principale per cui non ho voluto preparare una presentazione PowerPoint è che essa avrebbe dovuto servire soprattutto ad analizzare una serie di casi di test che ritengo criticabili ed esemplificativi di ciò che non si dovrebbe fare. Ma confesso di provare un vero senso di sfidimento dopo aver prodotto per anni critiche su critiche di casi specifici, precise e di contenuto, in articoli sulla stampa, in convegni, in rete, due anni fa, con un'analisi dettagliata di tutti i test invalsi di matematica che chi vuole può leggere sul blog pensareimmatematica.it. Nel corso di questi anni non ho ricevuto una sola risposta. Ero giunto alla conclusione di trattarsi di una manifestazione di arroganza o anche di debolezza. Le due cose vanno spesso insieme. E forse è anche così. Ma vi è anche un'altra spiegazione, e cioè che l'ente e i suoi esperti agiscono sulla base di una visione così autoreferenziale da essere chiusa a qualsiasi confronto esterno propriamente detto, cioè non addomesticato, scegliendosi con interlocutori già solidari con la loro visione. Di recente ne ho trovato una dimostrazione scientifica in un articolo di un matematico esperto di modellistica statistica e della valutazione, il professore Enrico Rogora, che consiglio di leggere sul sito roarts.it. Tralasciando l'argomentazione tecnica, che non è banale e va letta con pazienza, il succo è che gli esperti dell'ente lavorano su un modello formale di scuola e di alunno, espresso nel principale modello statistico su cui commisurano tutto, il modello di Rush, e lavorano su un'idea delle materie coinvolte che non può essere messa in discussione senza far crollare tutto in un colpo solo. Tale ad esempio è l'idea di matematica degli invalsi. Può essere rifinita, può essere ritoccata, ma non messa in discussione. Si capisce anche allora perché l'ente faccia ricorso alla stessa compagnia di esperti e debbia evitare come la peste l'intrusione di elementi alieni. Di conseguenza episodi sconcertanti come il bando per reclutamento di 10 esperti promulgato a fine 2014 senza pubblicità e con la scadenza di soli 10 giorni, sono probabilmente dovuti all'intenzione di evitare che si possa infiltrare nel lente qualcuno non omogeneo all'ideologia precostituita. L'inanità di entrare nel merito del contenuto delle prove invalsi per assenza di interlocutore mi induce a proporre un discorso generale che però risulterà nelle sue conclusioni quanto mai concreto. Dicevo che non ho nulla a priori contro le prove invalsi e contro gli invalsi e questa non è una giaculatoria. Mentre sarebbe una giaculatoria umiliante quella di proclamare di essere a favore della valutazione per evitare la scomunica abituale che viene lanciata contro i critici. Se critichi le prove invalsi sei contro la valutazione. Ora chi lancia questa scomunica in realtà dovrebbe vergognarsi ma davvero si vuol far credere che la valutazione che sia della ricerca, che sia della didattica, sia una scoperta nei nostri giorni. Sarebbe una manifestazione di ignoranza o di malafede davvero sconcertante. Non mi riferisco al fatto generico conseguente in modo naturale a qualsiasi attività intellettuale, cioè all'esercizio di una critica della medesima attività da parte di altri. No, mi riferisco a un fatto storico ben preciso, e cioè che da quando la ricerca scientifica, per esempio, è divenuta un fatto organizzato e di dimensioni sempre più imponenti, con la nascita delle moderne accademie, delle moderne università, delle società scientifiche, la valutazione degli articoli e delle memorie è divenuta un'attività codificata entro regole precise e rigorose. E non diversamente per quanto riguarda l'insegnamento, da quando si sono affermate le forme universalistiche di insegnamento di scuola aperta a tutti e poi addirittura obbligatoria, sulla base del principio che la diffusione della conoscenza è il fondamento di una società democratica formata da individui liberi e capaci di scegliere. Con un forte intervento di direzione statale, in cui sono prefissate le regole di valutazione degli studenti e anche le regole di valutazione dei docenti mediante funzioni ispettive. Ora, le forme che noi abbiamo ereditato possono essere criticate. È giusto che si evolvano, che ci si adegui alle esigenze della società contemporanea, come del resto è sempre accaduto nel tempo, ma non ci si venga a raccontare che la valutazione è una scoperta di oggi come se fino adesso tutto fosse stato legato all'arbitrio. Eh già, si dice, però quelle forme di valutazione del passato non erano improntate alla visione contemporanea, che è quella di una valutazione oggettiva e standardizzata che esclude i fattori perturbativi dei soggetti, in particolare degli insegnanti, i loro rumori variabili, le loro idiosincrasie, e permette di offrire risultati al riparo da ogni contestazione. È evidente qui il riferimento al modello delle scienze esatte, emblema di risultati indiscutibili e oggettivi. Ma proprio questa pretesa o speranza di rifarsi a quel modello è intrisa di un'illusione puerile. È ovvio che la conoscenza umana è fondata su un'aspirazione al conseguimento di risultati aventi un valore intersoggettivo quanto più possibile elevato. Pensare qualcosa di diverso sarebbe affondare nel relativismo assoluto, persino nella negazione dell'utilità di una comunicazione discorsiva alla maniera di quel cratilo che, come raccontava Aristotile, ritenendo che mai ci si possa immergere nella stessa acqua di un fiume, si limitava a comunicare con i suoi simili muovendo un dito. Tuttavia, di oggettivo in senso pieno, esiste una sola forma di conoscenza, quella della matematica astratta, che faceva dire al celebre matematico italiano Vito Volterra che, mentre gli imperi crollano, i teoremi Euclide restano saldi. La matematica greca ha realizzato l'aspirazione a una forma di conoscenza altamente intersoggettiva idealizzando una serie di forme, figure e procedure pratiche come enti fondamentali di una scienza, la matematica, in cui si può ragionare in forma puramente logica. La matematica moderna è andata oltre, eliminando ogni scoria di concretezza, come certe definizioni contenutistiche che erano ancora presenti nella matematica e l'idea, per realizzare con l'assiomatica una scienza assolutamente oggettiva in quanto fondata esclusivamente sui procedimenti della logica formale. Ma anche qui, non appena si ridiscende dall'empirio dei concetti astratti per riempirli dell'opacità e dello spessore dei fatti reali, iniziano i problemi. La matematica applicata, la fisica, non godono più del privilegio di resistere al crollo degli imperi e spesso le loro leggi croc cadono come essi. E ancor più questo è evidente in branche come le probabilità e la statistica intrise di realtà concreta nei loro fondamenti stessi. La difficoltà si fa ancora più evidente nelle scienze della vita, nella biologia, dove è in discussione se si possa anche parlare di una dimensione teorica, cioè di leggi, anche perché si pensi alla teoria dell'evoluzione, spesso interviene qui quella dimensione così complessa e difficile da pensare in termini quantitativi come la dimensione storica. Quando poi passiamo alle scienze in cui interviene il fattore eminentemente soggettivo, cioè il fattore umano, la pretesa di raggiungere risultati assolutamente oggettivi e senza senso. Potrei dire con il celebre matematico Henri Poincaré che l'applicazione del calcolo ai problemi morali è lo scandalo della scienza. Mi limiterò a dire che l'aspirazione ai risultati aventi il massimo valore intersoggettivo possibile è inevitabile, corretta, giustificata, ma non può giungere al punto di far credere che sia possibile espungere il soggetto e la sua presenza, quali che siano le forme di valutazione che si decida di scegliere. Penso che sia possibile aspirare a valutazioni quanto più possibile condivise, questo è il termine che userei, ispirate a equanimità in una cornice di crescente miglioramento quale può dare soltanto un confronto culturale intersoggettivo, ma ogni pretesa di cancellare la presenza del soggetto questa sì è scandalosa. In effetti l'unica cosa che si può fare è di eliminare dalla scena la presenza del fattore più smaccatamente soggettivo, l'insegnante e le sue valutazioni, sostituirla con valutazioni standardizzate mediante test, i quali però sono preparati da esperti che hanno la loro visione soggettiva della materia, delle modalità di insegnamento, eccetera, i quali ci vogliono far credere che la loro soggettività in realtà non esista perché si rifanno a un modello quantitativo formale che avrebbe valore oggettivo. Il punto è che tentare di far credere che nella valutazione si possa eliminare del tutto il valore soggettivo equivale a far finta che una stanza sia pulita perché sia nascosto la polvere sotto il tappeto, fuori di metafora sotto il tappeto dei modelli formali e di costrutti formali dell'idea di bambino, di alunno o di insegnante o di scuola. Così si sostituisce all'ideale possibile del miglioramento concreto e progressivo quello della costruzione di un colpo, di una realtà perfetta su schemi preformati che corrisponde a un tipico pensiero totalitario. Non perderò tempo a rispondere a obiezioni che mi sono sentito fare alcune volte e cioè che nel modesto si dice caso in esame è inutile mettere in gioco con la tematica filosofica dell'oggettività perché quel che si vuole è soltanto escludere un fattore pertorbativo della soggettività dell'insegnante imponendogli di agire entro una griglia di valutazione preformata. Ma allora bisognerebbe avere la decenza di parlare di standardizzazione di alcuni aspetti della valutazione e non di parlare pomposamente di valutazione oggettiva, tantomeno di cercare di mettere a tacere i critici come nemici della valutazione to cure. No, quel che è in gioco è proprio la pretesa o diciamo la vana speranza di cui dicevo e cioè di fare nella valutazione qualcosa di simile alla matematica assiomatica. Di fatto questo può farsi in un modo solo. Come la matematica sostituisce ai cerchi o ai segmenti concreti e imperfetti, cerchi astratti e rette perfetti e ragiona su di essi, occorre sostituire alla scuola concreta, all'alunno concreto, alla materia scolastica concreta, una scuola, un'alunno e una materia idealizzati, per i quali costruire test standardizzati che si giustificano per la loro coerenza interna, ovvero per la coerenza con il modello dato. Vedremo tra poco come questa non sia affatto una mia fantasia, ma è esattamente quello che ci propone l'invalzi. Tuttavia, se in fisica l'uso delle idealizzazioni della matematica ha funzionato e dentro certi limiti, con ogni evidenza ci è accaduto perché erano ricavati da come aspetti invariabili di ambienti materiali, mentre qui la faccenda si fa molto più complessa e discutibile. I modelli quantitativi idealizzano aspetti che non sono per nulla invariabili e che sono perturbati dall'azione di soggetti, ovvero proprio da ciò che più complica il raggiungimento dei risultati oggettivi. Quindi, permettetemi di leggere un brano del filosofo Maurice Merleau-Ponty, egli criticava una scienza che manipola le cose e rinuncia ad abitarle. Essa se ne dà dei modelli interni e operando su questi indici o variabili, le trasformazioni permesse dalla loro definizione, si confronta soltanto da lontano con il mondo attuale. Essa è quel pensiero amminevolmente attivo, ingegnoso, disinvolto, quel partito preso di trattare ogni essere come oggetto in generale, cioè al contempo come se non fosse nulla per noi e tuttavia fosse predestinato ai nostri artifici. Ma la scienza classica conservava il sentimento dell'opacità del mondo, è esso che intendeva raggiungere con le sue costruzioni. Ecco perché si credeva obbligata a cercare per le sue operazioni un fondamento trascendente o trascendentale. Vi è oggi il fatto nuovo che la pratica costruttiva si prende e si dà come autonoma e che il pensiero si riduce deliberatamente all'insieme delle tecniche di presa o di captazione che inventa. Pensare è tentare, operare, trasformare con la sola riserva di un controllo sperimentale in cui intervengono solo fenomeni altamente lavorati. Di qui ogni sorta di successi, di tentativi vagabondi. Quando un modello ha avuto un successo in un ordine di problemi lo si prova dappertutto. La nostra biologia sono piena di gradienti di cui non si vede in che si distinguono da quel che i classici chiamavano ordine o totalità. Ma la questione non è posta. Non deve esserlo. Il gradiente è una rete che si getta in mare senza sapere cosa raccoglierà. Questa libertà operativa può superare dei dilemmi vani, purché ogni tanto si faccia il punto, ci si chieda perché lo strumento funziona qui e fallisce altrove. In breve, purché questa scienza fluida si comprende e si veda come una costruzione fondata su un mondo bruto ed esistente e non attribuisca a operazioni cieche un valore costitutivo. Se poi questo genere di pensiero operativo si prende carico dell'uomo e della storia e se fingendo di ignorare quel che ne sappiamo per contatto e per posizione intraprende a costruirli a partire da alcuni indici astratti, come hanno fatto negli Stati Uniti una psicanalisi e un culturalismo decadenti, poiché l'uomo diventa davvero il manipulandum che pensa di essere, si entra in un regime culturale in cui non vi è più né vero né falso riguardo l'uomo e la storia. Si entra in un sogno o in un incubo da cui nulla potrebbe svegliarci. In verità i misfatti del formalismo sono andati e stanno andando molto oltre il culturalismo decadente di cui parlava Merleau-Ponty. Basti pensare alle teorie pedagogiche di Jean Piaget che hanno avuto influssi nefasti sull'insegnamento. Penso alla teoria sballata secondo cui un bambino non può manipolare concetti matematici prima dei sette anni che ha devastato decenni di insegnamento della matematica. Una teoria di cui può dirsi soltanto che il suo autore non doveva aver visto un bambino reale una sola volta in vita sua. Più di decente basti pensare alla traballante connessione tra apprendimento della matematica analisi neuroscientifiche mediante la risonanza magnetica, una connessione priva di qualsiasi valore scientifico serio, ma attraente perché moderna, non importa se anch'essa basata su un modello di bambino inesistente in realtà. L'ideologia dell'invalsia è in consonanza con questo tipo di approcci formali. È forse un caso che i suoi esperti, per evitare la problematica che io sto qui sollevando, procedano dando una definizione formale di oggettività, cioè eludendo la tematica concreta dell'oggettività e ne diano una definizione formale come si fa con gli assiomi della matematica. E si avvertono, e vale la pena davvero di leggere questo illuminante passaggio di un articolo del responsabile scientifico dell'invalsi, che, cito, il modello di Rush non può essere applicato secondo una modalità meramente esplorativa, ovvero di verifica ex post se il modello si adatta ai dati empirici, no? Quindi non ci poniamo il problema della sua coerenza con i dati empirici. Ma è necessario che il test, attenzione, sia costruito secondo modalità tali che i dati da esso forniti si conformino con ragionevole l'approssimazione al modello stesso. Al modello, non alla realtà. Ciò significa, non basta, se è ancora più chiaro, che il test deve essere costruito in modo tale che l'insieme delle domande che lo compongono e la loro successione sia tale da rispecchiare anche sul piano sostantivo, avrei detto sostanziale o di sostanza, dell'ambito disciplinare cognitivo, indagato le assunzioni del modello di Rush. Quindi il test viene costruito in modo tale che le domande che lo compongono siano delle domande non che corrispondono a un'idea concreta, reale della disciplina, ma devono rispecchiare le assunzioni del modello di Rush relative all'ambito disciplinare indagato anche sul piano sostanziale. È esattamente quello che ho detto prima, quindi non era una critica, questa è la conferma più clamorosa della critica che io ho fatto, ogni commento è quasi superfluo. La realtà è rappresentata dal modello di Rush, quello che peraltro illustri psicometrici hanno onestamente definito un feticcio statistico. La nozione di oggettività è quella definita mediante assiomi interni al modello. I test debbono rispecchiare le assunzioni del modello anche sul piano della sostanza della disciplina e l'oggetto. In altri termini la matematica dell'invalzi o la letteratura italiana dell'invalzi è quella che definisce lui. Cosa volete che si possa discutere in queste condizioni? Ma soprattutto come può il sistema dell'istruzione di un grande paese conformarsi tutto all'ideologia formalista di un ristretto gruppo di esperti che al massimo accetta di confrontarsi con una fascia ristretta di persone che ruota attorno alla sua visione come gli anelli di Saturno? L'unica richiesta può essere si spalanchino le finestre, l'invalzi non è il detentore di che cos'è la matematica o la letteratura. È una pretesa ancora più che inaccettabile e ridicola che un simile modo di procedere abbia alcunché di oggettivo nel senso autentico del termine e non secondo la definizione formale di comodo, di oggettività. Questo modo di procedere è il massimo dell'arbitrio e contraddice il concetto stesso di cultura e di conoscenza che solo in un paese totalitario può essere definita nelle sue forme e delegata nella sua gestione a poche persone. E qui vengo all'altra questione cruciale. Qual è la funzione degli invalzi? Tentare di fornire attraverso una molteplicità di strumenti quantitativi e qualitativi un quadro dello stato del sistema italiano dell'istruzione per fornire un valido strumento per migliorarlo. Se questa è la funzione degli invalzi, nulla da obiettare. Anzi, non si può che salutare con favore un'attività del genere che può espletarsi in vari modi, con sondaggi anche soltanto campionari, come è tipico delle buone ricerche statistiche, con il ricorso a test da elaborare però a finestre aperte e accettando di dare ascolto a una discussione ampia sulle scelte fatte, ascoltando le critiche, mediante strumenti di ricerca sul campo, mediante la ricerca didattica e così via. Se invece l'intenzione è quella di sostituirsi pian piano o anche presto alla funzione valutativa dell'insegnante nei confronti degli studenti, a mio avviso assolutamente ineliminabile, sulle basi a dir poco discutibili che abbiamo visto e con l'esclusivo ricorso ai test, e se si mira addirittura a valutare con i test insegnanti e istituti, allora non ci siamo proprio. E perché non ci siamo sta tutto nelle cose che ho detto e nei modi inaccettabili in cui è venuta avanti questa intenzione? Penso alla prova in balzi per l'esame di terza media. Non c'è bisogno di essere un grande epistemologo per capire l'assurdità di una simile scelta. Invece di limitarsi a tentare di valutare i successi conseguiti dalla didattica ordinaria, si inserisce una prova, oltretutto basata sull'ideologia che abbiamo visto, che ha due effetti. Il primo è di perturbare l'esito dell'esame. Sarebbe come se un chimico chiamato a determinare i componenti di una miscela l'agitasse non mediante una bacchetta di vetro neutro, ma mediante una bacchetta intrisa di una sostanza che reagisce con la miscela. Il secondo effetto è ancora peggiore, stimolare insegnanti e studenti a studiare e insegnare una nuova materia, i test invalsi. Questo configura la disastrosa...